direi che il tema di questo webinar è veramente caldo perché andremo a parlare di fidelizzazione dei clienti ci sono tantissime cose che vi voglio mostrare faremmo sia una parte insomma un po più introduttiva per capire quanto importante è la fidelizzazione e passeremo poi ad una parte invece super pratica in cui vi farò mettere un po le mani in pasta anche a voi quindi tenetevi pronti per chi non mi conoscesse io sono marta e in sms hosting mi occupo di tutta quella che è la parte di creazione contenuti e anche formazione dei clienti quindi mi vedrete probabilmente vi avete già visto nel canale youtube e in altre cose quindi per chi non mi conoscesse sono allora io direi che inizio subito condividendovi un attimo il mio schermo inizio dandovi proprio due due dritte su sms hosting per chi non lo conosce quindi per chi non ha mai utilizzato la piattaforma che cos'è sms hosting è una piattaforma online web che ci permette di raccogliere contatti di clienti o potenziali clienti di inviare delle comunicazioni via sms email utilizzando tutti gli altri canali tra cui anche le fidelity card e automatizzare i processi quindi fare quella che nel gergo chiamiamo marketing automation oggi insieme vedremo che collegata alla fidelity card c'è una una parte veramente molto importante di marketing automation che diciamo è stata proprio messa e preparata in maniera molto semplice quindi vedrete che implementarla sarà davvero semplicissimo maria ci chiede se dei canali abbiamo anche whatsapp ad oggi no e vi spiego anche il motivo diciamo che whatsapp business è un canale che sapete voi potete installare nel vostro cellulare è praticamente un'app che potete utilizzare per poter utilizzare whatsapp in modo chiamiamolo ancora più professionale è necessario integrare quindi integrare una piattaforma con l'api di whatsapp il costo dei whatsapp inviati tramite ipi è effettivamente più alto anche di quello degli sms quindi ad oggi non è integrato whatsapp magari un giorno lo faremo diciamo che giusto per darvi sempre ancora qualche dato ci tengo sempre a sottolineare questi sono poi dati di sms hosting che la cosa più importante il fatto che c'è poi tra a parte tutto il know how eccetera c'è un'assistenza che vi può supportare sia telefonicamente via chat dal sito via email in qualsiasi momento è gratuita è integrata sia per i clienti che per non clienti quindi io veramente questo diciamo che ci risolve tante volte il problema di oddio ho questo questa cosa che non ne vado fuori come faccio poter parlare con delle persone in italia e tutto è sicuramente un plus bene detto questo a livello un po' introduttivo non perdo tempo e dentro subito nel diciamo nella parte più consistente del nostro webinar andiamo a capire cioè sapete che a me piace sempre un po' ragionare insieme sulle cose le fidelity card perché io dovrei fare cioè perché dovrei lavorare sulla fidelizzazione del cliente io qui vi ho messo un dato molto importante ovvero che acquisire nuovi clienti costa sette volte in più che mantenere i clienti attuali quando mi si chiede è importante fare lead generation acquisire diciamo il contatto di nuovi clienti io dico sempre è fondamentale ma prima di acquisire il contatto di lead per esempio con campagne su facebook eccetera cerchiamo di avere anche il contatto di chi è già nostro cliente quindi la prima domanda che vi faccio è avete il dato dei clienti li state tracciando sapete chi sono i vostri clienti avete nome cognome avete un numero di cellulare dei clienti un indirizzo email questo è il punto di partenza perché perché effettivamente quando noi parliamo di fidelizzazione abbiamo dei riscontri subito economici vedete qua dei dati eh un cliente abituale spende ehm di più che un nuovo cliente e quindi ha proprio uno scontrino medio eh più alto questo è abbastanza normale anche se ci pensate anche il dato sul tasso di conversione di un cliente fedele che è molto più alto di quello di un nuovo cliente ma certo perché se un cliente fedele ci conosce eh sa che i nostri prodotti i nostri servizi valgono sono insomma rispondono alle loro esigenze e quindi sono disposti anche a spendere di più è chiaro che io questi clienti che mi conoscono e che spendono di più anche eh nel mio negozio nel mio e-commerce non li posso lasciare di diciamo a ehm lasciare al caso la nostra relazione con loro cioè non posso dire vabbè guarda mi ha acquistato una volta mi acquisterà altre volte speriamo che si ricordi di me quando sarà non so la festa della mamma che è imminente e che acquisti il regalo da me eh questo ragionamento poteva funzionare un tempo ma oggi ehm non è più così perché c'è tanta competitività online e mh anche appunto a livello di store fisici. Ultimo dato sempre il profitto dell'azienda come vedete aumenta dal venticinco al novantacinque per cento quando i tassi di fidelizzazione aumentano. Su questo poi vi lascio anche il link eh ad un case study che trovate nel nel blog di SMS hosting e che vi vi spiega veramente una come con una strategia di fidelizzazione un negozio di abbigliamento si è riuscito a passare da eh trecentomila euro di fatturato anno a settecentomila euro di fatturato. Un negozio un piccolo negozio che però insomma ha avuto veramente seguendo una strategia di fidelizzazione eh che dopo se abbiamo tempo ve la spiego e insomma ha riuscito veramente a incrementare i fatturati. La domanda le fidelity card sono la soluzione? Beh le fidelity card sono dei programmi di fidelizzazione. Chiaramente le fidelity ci aiutano a fidelizzare i clienti ma non sono cioè non voglio dirvi una una cosa per un'altra non sono la soluzione che se io creo la fidelity card non devo più fare altro. No associata alla fidelity card sicuramente poi potrò fare e anzi dovrò fare altre cose come lo dico sempre l'invio di newsletter in maniera costante, l'utilizzo dell'SMS marketing per magari coinvolgere i clienti su particolari promozioni, novità eccetera e poi eh tutta la parte comunque di social media marketing che va fatta. Quindi le fidelity card sicuramente se avete ehm un negozio, un'attività che dà un servizio è molto importante ci sono poi però di delle tipologie di attività. Vi faccio l'esempio di noi SMS hosting, di noi piattaforma SMS hosting che non abbiamo una fidelity card però troviamo altre modalità per fidelizzare i nostri clienti. Esempio eh degli sconti a chi è cliente fedele eccetera eccetera. Io qua vi ho lasciato qualche dato sulla eh sulle fidelity card che ho preso da Shopify. In generale vedete che da parte dei consumatori è apprezzato il fatto di poter eh accedere a un loyalty program. Se su questo avete un feedback cioè se avete eh un negozio un ehm non so che tipo di business avete voi ma eh avete già per esempio una fidelity card e avete dei dati sul eh tasso di gradimento dei vostri clienti della fidelity fatemelo sapere in chat che così condividiamo insieme eh i vostri feedback. Ehm la cosa che mi viene da dire è va benissimo quindi ottimo la fidelity card ma che fidelity card fare cioè cosa cosa dobbiamo fare qual è lo step successivo. Allora io qua vi ho riportato ehm un'immagine che è quella penso almeno per me quando penso fidelity card mi viene subito in mente eh la fidelity della pizzeria sotto casa che mi ha dato guarda ah cavolo hai preso la pizza bene guarda allora ti do ho questa tesserina ti faccio il timbrino e mi raccomando la prossima volta che vieni ricordati di portarla che poi al decimo timbrino ti regalo una pizza. Eh io ma non solo io dati alla mano e qui vedete i dati i clienti queste tessere cartacee le dimenticano nel portafoglio. Eh quindi c'è questo grande problema che se tutti i negozi a cui noi consumatori accediamo ci danno una fideli di card cartacea rischiamo o di buttarla via per sbaglio di perderla o magari quando siamo là non ci dimentichiamo di averla. Ehm tra l'altro anche molte volte chi fa questo tipo di chi propone questo tipo di card non raccoglie neanche il dato del cliente. Quindi questo è sicuramente eh diciamo anche qua un problema perché poi è il dato vedremo quanto importante è il dato. Ehm L'altra tipologia di fidelity card sono le fidelity classiche fidelity in carta. Ehm Io ho messo qua di plastica perché di solito sono in plastica e e sono quelle l'esempio diciamo più semplice è quello del supermercato che ci dà la tesserina. Ricordiamoci che il più delle volte i software fidelity card di questo tipo eh non sono collegati a un sistema automatico di SMS e newsletter. Quindi cosa succede? Ehm che noi lasciamo i nostri dati però poi eh non tante volte non vengono utilizzati. Io personalmente ho diverse fidelity card di eh di di supermercati ma non ricevo eh email marketing e SMS mh legate appunto a queste fidelity. Inoltre hanno chiaramente costi elevati anche perché dobbiamo poi sostenere il costo fisico della fidelity card di plastica e soprattutto i clienti poi tendono a smettere a realizzarle aggiungendo le fidelity card eh a quelle app tipo sto card. Io sono un classico tipo di questo cliente che io le aggiungo lì e e via. Però diciamo che comunque qui ehm è sicuramente utile per servizi che hanno un'altissima rotazione come i supermercati un po' meno eh in altri casi. In chat Leonardo mi chiede se la fidelity card o comunque è un'affermazione la fidelity card va bene anche per un negozio online? Assolutamente sì. Anzi chiaramente giustamente anche i negozi online hanno veramente la necessità di fidelizzare i clienti. A volte forse anche più di quelli fisici. Ehm la terza tipologia di fidelity card ed è quella che adesso andiamo a mettere le mani in pasta e andiamo a vedere a configurare insieme è la fidelity card digitale. Cosa vuol dire? Eh sms hosting è una piattaforma che vi permette di creare una fidelity card digitale. Ce ne sono altre. Il pro di sms hosting è che è legata, la fidelity card digitale è legata a tutto il resto della piattaforma che come vi dicevo prima sono newsletter, sms, coupon, sconto digitali e poi tutta una serie di automazioni. Con la fidelity card digitale io eh raccolgo il dato del cliente e inizio subito ad instaurare una vera e propria relazione in maniera automatica quindi senza perdere tempo. Tra l'altro la cosa di pro è che ehm abbiamo 30 mesi di prova gratuita e poi il costo è di 14 euro al mese. Quindi ehm sinceramente anche un costo abbastanza basso da sostenere chiaramente e poi bisogna andare a capire e a configurare bene il tutto. Questo sicuramente è importante. Ehm Viaggio ci dice eh ciao Viaggio avere un loyalty program per un e-commerce è tutto fondamentale perché permette di abbassare il CAC e aumentare il lifetime value. Certo assolutamente. E infatti è veramente questo il fulcro della fidelizzazione e e chiaramente è necessario avere un sistema che ci permetta di farlo. Il sms hosting è un'alternativa. Allora io visto che vi ho parlato di fidelity card digitale e vedete anche qua che c'è la possibilità di inserirla nel wallet del telefono vi faccio vedere come creare una fidelity card ipotetica per un vostro negozio. Chiaramente poi mh per qualsiasi domanda continuate a utilizzare la chat. Allora andiamo nella nostra piattaforma sms hosting. Qui vedete ehm vedete praticamente la ehm mia schermata. Leggo un attimo eh Giorgio che ci scrive il costo mensile è indipendente dal numero di tessere attivate. Allora vi faccio vedere così ormai colgo l'occasione anche per mostrarvi i prezzi. Eh nel sito di sms hosting voi trovate eh i prezzi in maniera mh veramente mh trasparente. Con i quattordici euro al mese noi abbiamo duecentocinquanta tessere eh integrate. Teniamo il costo annuale eh quindi annuale cento sessantotto euro l'anno. Se io avessi cinquecento tessere vedete che aumenta quindi invece quattordici euro al mese sono venti euro al mese e così via. Quindi il costo aumenta in base al numero di fidelity però vedete che comunque eh anche anche qui i costi sono relativamente bassi. il prezzo mensile varia col numero di email, numero di fidelity e poi vabbè la parte degli appuntamenti che non è oggi il tema. Ehm quindi nei quattordici euro al mese avete comprese duecentocinquanta fidelity e quindicimila email. Se avete altre domande relativi ai prezzi ditemelo. Tornando alla creazione della fidelity io per snellire un attimo i tempi ho già creato una fidelity ma in realtà se voi non l'avreste creata qua ci sarebbe crea nuova fidelity e arrivereste direttamente a questa parte qui. quindi è tutto molto semplice. Ehm vi do qualche diciamo nozione importante da questa parte qui da ricordarvi. E intanto in un primo step noi diamo un nome alla fidelity card, il nome dell'attività commerciale, quello che viene visualizzato dal cliente, quindi mettete il nome della vostra attività. E qua eh possiamo impostare questo cioè a quanti euro di spesa e quale un punto della mia fidelity card. Perché sappiamo che i programmi fedeltà si basano sull'accumulare di punti. Ehm mi chiedete eh prima di proseguire vado un attimo eh con le domande. E mi chiede Gianluca se abbiamo un sistema per affigliarci, per riaffigliarsi al servizio, quindi se fare diciamo eh non so se intendi come per esempio mh promoter di SMS hosting o rivenditori. assolutamente sì, potete creare un programma, esatto sì, corretto, eh un programma promoter. Praticamente cosa significa? Che proponendo SMS hosting ricevete una fee ehm in base agli acquisti dei vostri affiliati. Mentre come rivendita potete accedere a tutti i prodotti di SMS hosting ad un prezzo scontato e eh riproporli facendovi i vostri prezzi con una piattaforma white label. eh poi magari in questo Gianluca se vuoi approfondire puoi inviare un'e-mail a assistenza che ho cioè sms hosting punto it e ti insomma ti rispondiamo nello specifico. Tra l'altro questa è una eh diciamo una necessità che emerge spesso dai webinar e quindi il prossimo webinar che sarà il prossimo mese perché sapete che ne facciamo uno al mese sarà proprio dedicato alla piattaforma dei venditori. Quindi questo lo vedremo un po' in dettaglio. Eh Elena ci chiede se SMS hosting è ora integrabile ehm via app e se questa attiva è funzionante. Allora il link che mi hai mandato Elena eh sì è attivo con è praticamente l'integrazione di Shopify. Vediamo se eh cliccandolo. Ok praticamente questa eh questa app qua è attiva e vi consente in questo momento di sincronizzare i contatti che avete su Shopify con i contatti di SMS hosting. eh stiamo lavorando comunque anche per integrare ancora di più eh SMS hosting con Shopify quindi a breve eh ve lo dico già periodo estivo mi azzardo e spero che non mi lincino vi darò qualche altra news. eh Matteo mi chiede anche se abbiamo delle guide per la scelta dei punti da assegnare per ogni euro speso no? Guarda sinceramente non c'è un ehm un ehm dei consigli che posso darti cioè delle best practice. A mio parere io per semplicemente tante volte consiglio di mettere un euro così un euro di spesa uguale un punto però poi dipende. adesso magari vi faccio vedere eh anche poi il discorso dei premi e poi magari facciamo le valutazioni insieme. Eh una cosa che io vi consiglio sempre di fare è quella di dare già dei punti di benvenuto cioè quando noi abbiamo il cliente in negozio o online e gli diciamo guarda iscriviti alla Fidelity Card ti do già eh dieci punti di benvenuto che sono dieci euro di spesa. quindi te li regalo io. Questo eh è un principio di gamification eh perché? Perché se io ho già iniziato a compilare eh quindi a ricevere dei punti sarò incentivato ad accumularne altri. È proprio un concetto così. Eh qui avete anche la possibilità invece che utilizzare il QR code della Fidelity Card digitale avere un barcode. questo è utile se avete un punto cassa integrato con la Fidelity Card di SMS Hosting. Se non ce l'avete cosa che a mio parere non è assolutamente necessaria nei luoghi dove non abbiamo un giro di clienti altissimo. quindi eh parrucchiere, estetista, negozio di abbigliamento eh per dirvi noi abbiamo una catena di punti vendita mh di riparazioni per iPhone, iPad, eccetera. In tutti questi casi non è necessario avere il punto cassa integrato. basta scaricare l'app di SMS Hosting, quindi se non avete il PC potete scaricare magari nei dispositivi di tutti i dipendenti l'app di SMS Hosting, arriva il cliente con la tessera sullo smartphone, inquadriamo il QR code della sua tessera oppure ci dice il nome, noi lo digitiamo nell'app SMS Hosting e troviamo il cliente. Comunque dopo per assegnare i punti ve lo mostro, questo ve lo faccio vedere. Anche qua, allora, l'impostazione del GDPR dopo le vedremo, associamo ad ogni Fidelity Card un regolamento Fidelity, vedete che qui possiamo poi inserire delle informazioni opzionali che vi consiglio di mettere perché compariranno al cliente quando si va a vedere la sua Fidelity Card. Possiamo caricare il logo, eccetera, eccetera, non so, a perdere tempo su queste cose che insomma sono semplici. Una cosa che vi segnalo e che a mio parere è molto molto interessante è la possibilità di attivare le notifiche di prossimità. Questo funziona solamente per i sistemi iOS e non Android e se io scrivo qui una notifica, i miei clienti che hanno la Fidelity Card del mio negozio, quindi in questo caso Estetica Marta, mettiamo così, i clienti di Estetica Marta che hanno un iPhone e che si trovano in prossimità del mio negozio e hanno salvato la mia Fidelity Card nel wallet, poi questo anche ve lo mostro, se sono vicino in prossimità del mio negozio riceveranno una notifica push sul telefono, quindi una di quelle notifiche che ricevete per esempio da Facebook quando avete un messaggio Whatsapp, quelle notifiche che vi vengono diciamo in cima allo smartphone. Con il testo che ho scritto qua io, per esempio potrei scrivere, cambiare questo testo in base alle promozioni che ho attive in negozio e se ho i saldi estivi attivi, sei vicino al nostro negozio e vieni a trovarci, ci sono i saldi estivi, ve la butto là. Quindi vedete che anche questa è una possibilità interessante. Una volta, adesso vedo le vostre domande e vado avanti un attimo con gli scorsi e poi le riprendo, non le perdo, non le perdo. Anche qui possiamo inserire poi un messaggio di benvenuto, anche questo vi consiglio di configurarlo, lasciando però, mi raccomando, questo campo dinamico, che è il campo in cui poi quando il cliente riceve l'SMS può cliccare nel link. Adesso vi faccio fare una prova così lo testate proprio, diciamo immediatamente. Un'altra cosa che io vi consiglio sempre di fare è quello di utilizzare un mittente SMS, un mittente SMS, scusatemi, personalizzato. Stavo ripetendo su un'altra cosa, quindi salviamo e andiamo a crearci il mittente SMS personalizzato. Cosa vuol dire? Che quando il mio cliente riceve SMS da parte mia, riceve un messaggio da parte di negozio Marta, quindi vedete che qua basta compilare tutti i campi e possiamo creare gratuitamente un mittente degli SMS personalizzato con nome del vostro negozio. Io questo ve lo consiglio di fare. Una volta che abbiamo impostato queste informazioni di base, ci sono due cose da fare che non vi ho mostrato nel dettaglio. Andiamo a farlo subito. La prima è quella di inserire un regolamento Fidelity Card adeguato. Per farlo, fate quello che ho fatto io adesso e arrivate nella sezione GDPR. Se avete già un'informativa privacy vostra, semplicemente andate con un URL esterno e la mettete. Se avete fino ad oggi fatto la Fidelity Card cartacea e avete un foglio che tenete in negozio con la informativa della Fidelity, potete copiare e incollare qui il testo. Se non avete mai fatto la Fidelity Card e non avete idea di cosa scrivere nell'informativa, da 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 da, vediamo noi il template già pronto. Questa è una cosa interessantissima. Clicchiamo su inserisci da template e vedete che qua abbiamo template contest privacy con regolamento Fidelity. Quindi vi basta cliccare qui, personalizzare attenzione tutti questi campi in giallo con i dati della vostra attività e il gioco è fatto. Quindi creiamo la Fidelity Card, inseriamo il regolamento e altra cosa importante è quella di impostare il form accolto a contatti. Anche qui molto semplice, andiamo a creare, vedete, è tutto guidato perché poi da quella parte della Fidelity venite rimandati nelle varie sezioni. Quindi creo la Fidelity, creo il regolamento, step 3, creo il form. Io qui vedete che ho deciso di raccogliere numero, nome, cognomi, mail, data di nascita per mandare poi anche degli sms data di nascita. Aspetto, vedete privacy, opt in azione, l'azione chiaramente deve rimanere ed è creare una Fidelity Card. Adesso vi faccio, prima di procedere, facciamo un test. Cioè vi faccio provare ad iscrivere alla Fidelity Card, così vedete cosa succede e anche cosa vi arriva sullo smartphone. Allora, vi copio in chat il link a cui potete poi appunto iscrivervi. Sapete che non utilizziamo in alcun modo i dati, fatemi sapere se il link vi sia aperto o no. Forse ve lo devo mandare con l'HTTPS. Allora, aspettate, vi lo mando in chat. Ok, adesso dovreste poterlo cliccare e arrivate alla schermata dove sono io. In questo caso io mi iscrivo. Se vi va di farlo sapete che chiaramente i dati non li utilizzo, questo account viene cancellato alla fine del webinar, quindi non vi preoccupate. Allora, facciamoli insieme. Questo è perché vi faccio poi, prendo qualcuno di test, vi assegno i punti e farete proprio finta di essere un cliente. Allora. Ok. Andiamo a dare i consensi. Qui ho anche inserito la firma digitale, se volete appunto la potete mettere. Inserisci firma. Ah, ok. Conferma. Ah, ho la cosa di Zoom che non mi fa mostrare il form. Mamma mia. La barra di Zoom. Ok, perfetto. Iscriviti. Vedete che mi sono iscritta alla Fidelity Card. A questo punto io, se vado nella mia Fidelity, troverò che ho sei clienti con Fidelity Card. Quindi sei di voi hanno fatto ad oggi questo esercizio. Adesso proviamo a vedere, adesso mi ferro un attimo e rispondo alle vostre domande, che così ci allineiamo. Intanto vedete che far iscrivere un cliente alla Fidelity è semplice. O inserite questo form che avete creato nel vostro sito web e sapete che qui, aspettate, mi sto perdendo, però ho mille finestre aperte, come il mio solito. Allora, vi volevo far vedere questo. Il form lo potete condividere con il link. Potete mettere in negozio il QR code, quindi incollarlo dove volete, per esempio lo stampate, fate un banner in cassa, nella vetrina, scriviti subito al programma Fedeltà, tanti supposi premi, inquadra il QR code e scriviti. Qui il QR code uno lo inquadra e andrà al form della Fidelity Card. Oppure se volete incorporarlo nel vostro sito, copiate, incollate lo script e lo mettete all'interno del sito web. Mi chiede Rossana se possiamo inquadrare il QR code invece del link. Quindi questo qua, sì, assolutamente, non so solo se te lo prende da, se riesci a prendertelo da schermo a schermo. Questo è un po' il mio dubbio. Leonardo dice che sei iscritto, perfetto. Allora, Leonardo, faccio il test con te. Dopo, dai. Adesso andiamo a vederlo. Volevo un attimo rispondere alle domande prima di procedere, che se no poi le perdo. E allora, intanto mi chiedete se è integrabile con PrestaShop e WordPress. Allora, diciamo che con WordPress, allora, WooCommerce e PrestaShop, diciamo che non c'è l'integrazione nativa. Quindi quando il cliente acquista nel vostro e-commerce, nativamente non c'è l'integrazione con la Fidelity SMS Hosting, ma si può integrare tramite API. Quindi ci sono tutte le API per integrare le Fidelity Card, sia in un software cassa, sia in un e-commerce. Oppure se, per esempio, avete un WordPress normale, quindi un sito web classico, vendete offline, potete inserire il codice per iscriversi alla Fidelity e fare così. Oppure inserire i punti manualmente nell'e-commerce, se non avete tantissime vendite. Gianluca, Giorgio ci chiede, è un negozio di ottica con un programma gestionale che prevede l'uso di card. Si può integrare con il vostro servizio? Allora, assolutamente sì. Bisogna capire se con il tuo sviluppatore si può integrare tramite API, oppure se si possono fare altri tipi di integrazione. Per una domanda così specifica, io ti consiglio di contattare la nostra assistenza all'e-mail assistenza-smshosting.it o al numero di telefono che trovi nel sito e quindi parlare direttamente del tuo caso. Rossana mi chiede, quale prossimità si intende dalla distanza al negozio? Allora, i metri non ce l'ho, anche qui dipende poi dal, diciamo, dal browser, però non ho la risposta. Ti dico la verità, e ne ho parlato anche con l'assistenza, non so dirti proprio i metri, ma ti dico in prossimità del negozio, scatta. Allora, se può integrare all'interno di una nostra applicazione proprietaria? Assolutamente sì, con l'API. Vi lascio poi anche il link all'API, ve lo invio, così potete vederle. Maria mi chiede se tutte queste notizie si possono richiedere cartaceo di negozio e poi passarle su smshosting. Allora, sì, lo puoi, puoi anche raccogliere i dati in cartaceo e poi importarteli te in smshosting. Il mio consiglio personale è che è sempre meglio utilizzare direttamente il software perché, uno, i dati entrano direttamente. Due, non devi conservarti i consensi cartacei, ma una volta che il cliente compila e formi smshosting, il consenso lo conserviamo noi. Quindi anche all'idello di GDPR sei più tranquilla. In ogni caso, comunque, puoi anche raccogliere in maniera cartaceo. Comunque, far iscrivere i clienti, avete visto che è molto semplice, perché condivido il link, oppure tengo il mio tablet in cassa, viene il cliente, vuoi iscrivertela a Fidelity? Ah sì? Bene, dai, dammi i tuoi dati, stiamo a due secondi. Quindi vedete che è proprio semplice. Allora, avreste dovuto ricevere, chi si è iscritto, un sms, fatemelo per controllo anche io del mio smartphone, visto che mi sono iscritta, avete ricevuto un sms da Demo SMS, clicca sul link VQ per visualizzare la tessera e i punti accumulati. Se cliccate nel link, voi vedete, questa, diciamo, è la vostra tessera fedeltà personale e vedrete che ho assegnato già dieci punti alla tessera. A questo punto vedete sotto anche tutte le informazioni della Fidelity Card, il cliente viene in negozio, quindi prendiamo l'esempio di Leonardo, dai Leonardo, prendo te, anzi prendo me, perché sennò si vedrebbe il tuo numero di cellulare, non voglio creare problemi. E cosa succede? Io adesso, il cliente viene in negozio, gli assegno i punti, quindi Marta viene, ah, come ti chiami? Marta, ok, sì, va bene, guarda, quanto hai speso? Hai speso 100 euro, perfetto, aggiungi i punti. Vedete che il cliente riceverà subito i punti sulla sua Fidelity Card. Volendo possiamo anche impostare un sms che gli avvisi, guarda che hai accumulato 8 punti. Quando ricevete, mi state dando il feedback effettivamente che funziona il discorso anche dell'sms, perfetto, una volta che vi siete iscritti, e trovate anche aggiungi al wallet, ottimo. Quindi, il cliente cosa può fare? Può aggiungere al mobile wallet nativo del telefono la vostra Fidelity Card, senza dover andare ogni volta a ricercare l'sms. Il pro è che, vedete, non dovete farli scaricare nessuna app aggiuntiva, che tante volte le Fidelity fanno scaricare app, il cliente si la salva su wallet del telefono e finita là. Una domanda che mi fate, si può collegare con Sclobi? So che abbiamo un'integrazione con Sclobi, quindi molto probabilmente sì. Anche qui, nello specifico, ti chiedo di contattare l'assistenza, però comunque Sclobi è un'integrazione nativa che abbiamo già. E la trovi tra l'altro nelle integrazioni di qua. Si può fare registrare i clienti tramite un sms? Assolutamente sì, puoi mandare un sms a tutto il tuo database, call to action. Abbiamo creato un nuovo programma Fidelity, vuoi iscriverti? Clicca qui. Cliccando arrivano alla landing page con il form che ti ho fatto vedere e si iscrivono. Quindi top, perfetto. Allora, una vado avanti e dopo man mano leggo le vostre domande, se no non riesco a mostrarvi tutto. Quindi vedete che in questo modo io posso fare scrivere i clienti e aggiungere i punti. Una cosa che però ci manca, che non abbiamo ancora fatto, è quella di impostare i premi. Una volta che ho ragionato sul mio programma Fidelity, devo anche ragionare su quali premi creare. Vedete che qui c'è la sezione gestisci premio, io posso creare un premio. Mettiamo caso, quindi mantengo l'idea dell'estetista, mettiamo caso che io con 100 euro di spesa, quindi con 100 punti, e qui è il ragionamento dei punti, perché io ho fatto un euro un punto, se io avessi fatto due euro ogni punto, con due euro acquisisco un punto, magari bastavano 50 punti per raggiungere il premio. Quindi vedete che sono ragionamenti poi da fare, ma non è che ci sia una grande differenza. Mettiamo che il nome premio, il primo premio che do è un smalto omaggio. Adesso ve la dico veramente, non ho idea di quali siano i premi che può fare un estetista, quindi sto veramente sperando a caso. Qui vedete che potete mettere la descrizione del premio, bellissimo smalto. Ok, è un premio fisico oppure è un premio di tipo digitale? Se fosse un premio di tipo digitale, come un coupon digitale, io posso creare un sms in cui inserisco un coupon dinamico, qui non ho campagne coupon, creo una campagna coupon, inserisco un coupon dinamico, e gli arriva un sms con un coupon da venire a riscuotere il negozio. Se invece è un premio fisico, lascio il premio fisico. Voglio inviare un sms quando una tessera raggiunge i punti necessari, lo posso ottenere oppure lo posso togliere, questa è una vostra scelta, ore che devono trascorrere dall'assegnazione del premio prima di inviare il messaggio. Cosa vuol dire? Che il cliente viene in negozio e raggiunge i punti necessari per riscuotere il premio. Io voglio che gli arrivi subito il messaggio, hai raggiunto i punti necessari, o voglio che, non so, si aspettino tre giorni e poi gli arrivi ehi Marta, guarda che hai i punti per riscuotere lo smalto gratuito. Vieni in negozio a prenderli. Faccio così, sempre esempio. Vedete che qua poi possiamo personalizzare il testo. Salviamo il premio, quindi qui abbiamo creato il nostro premio, ed ora andiamo alla parte più divertente. attenzione, perché per ogni premio che noi creiamo possiamo andare ad impostare dei messaggi automatici. E questo è il grande pro che fa la differenza con una Fidelity Card classica, sia cartaccia che di plastica, chiamiamola così. perché io posso dire, guarda, facciamo che quando questo cliente raggiunge 80 punti, quindi gli mancano 20 punti per avere lo smalto, io gli mando un SMS in cui gli dico, guarda, ti mancano solo 20 euro di spesa per avere lo smalto gratuito. Vieni in negozio, ti aspettiamo, spendili e poi ti diamo il regalo. Per fare questa cosa automatica, creiamo un'automazione, quindi messiamo tipo messaggio numero uno, questo ci arriva per noi. Quindi quando il cliente raggiunge un punteggio tra mettiamo 80 punti e 99. Questo qui è quindi quanto voglio aspettare da quando il cliente è stato in negozio a quando gli invio il messaggio gli metterai 5 giorni, che così non glielo mando subito e vedete che qua abbiamo, ti mancano solo, questo è un campo dinamico, perché? Perché se io qui ho messo un intervallo tra 80 e 99, chiaramente non è un numero fusto di punti, quindi a seconda di dove è il cliente gli arriva il numero di punti esatto. Questo dato qua non lo toccate, quindi è così, vedete che infatti sono tutti campi dinamici che possiamo inserire cliccando su dati fidelity. Possiamo reinserire il codice della fidelity, punti in possesso, i punti mancanti per il premio e l'importo mancante per il premio. In questo caso vedrete che ti mancano solo, non lo so, 10 punti per ottenere i premi, quindi in negozio con una spesa di soli, in questo caso 10 euro, te lo regaliamo noi. Ok, salva. Quindi quando al cliente mancheranno, avrà raggiunto questo intervallo di punti e avrà ricevuto gli ultimi punti da 5 giorni, gli arriverà questo tipo di SMS. Io vi consiglio quindi di configurare tutti i premi che volete, potreste farne secondo me a 4-5, può essere un premio fisico, quindi come in questo caso un oggetto oppure un servizio come, sempre nel caso dell'estetista, mi viene in mente una lampada omaggio, non lo so, adesso ve la butto là assolutamente, oppure appunto un premio digitale, in quel caso il coupon digitale che arriva via SMS, oppure in alternativa potrebbe essere uno sconto, quindi voi dite il premio è uno sconto del 10%, il cliente viene in negozio all'aggiunto ai punti e potete fare lo sconto del 10%. Quindi poi questo è diciamo veramente a seconda del vostro modo di ragionare, del vostro business, eccetera. Scusatemi un secondo. Il bello della diretta, vi ho detto che ho il raffreddore, quindi oggi va così. Allora, torno un attimo ai vostri messaggi e alla vostra chat e poi se avete domande relative alle automazioni, fatemelo sapere, poi vi mostro ancora due cosine. Gianluca mi chiede, cosa intendi che si trova sul wallet del cellulare? Allora, se abbiamo Android, nativo nel cellulare avremo Gpay. Gpay vi dà la possibilità di aggiungere sull'app Gpay delle card. Quando voi andate nel SMS che vi ho girato con la Fidelity Card, adesso purtroppo voi qua forse non lo vedete, ma in cima io ho un Android, c'è il tastino Gpay salva sul telefono. Se io clicco qui, clicco lì, mi sono salvata la mia Fidelity Card nel wallet e infatti cliccando proprio me la vedo Gpay di Google mi trovo la mia Fidelity. Quindi questo è un modo per dare la possibilità ai clienti di salvarsi le Fidelity sul loro smartphone. Sua iOS funziona allo stesso modo, solo che si chiama mobile wallet, mi sembra semplicemente. Importante, se il cliente è poco tecnologico e questa cosa non la sa fare, voi potete dirgli, guarda, per vedere i punti o clicchi sull'SMS che ti ho mandato, oppure quando vieni in negozio te lo dico, basta, non serve neanche che mi porti la Fidelity, mi dici il nome, io ti cerco. Quindi vedete che è veramente molto, molto semplice. Per far fare la Fidelity Card ai clienti che ho già, cosa devo fare? Allora, per far fare la Fidelity ai clienti che hai già, come vi dicevo prima, vado su SMS se ho il numero di cellulare. Se non ho il numero di cellulare di quei clienti, mando un'email, quindi come volete, e il concetto è quello di dirgli, crea ora, quindi grazie per essere un nostro cliente, bla bla bla, crea ora la Fidelity. Ok. Io cosa faccio? O do il link, vedete che io avevo creato nei miei contatti, aspettate che mi apro i form, ho questo form della Fidelity Card che posso condividere così com'è, copiando il link, oppure lo posso inserire all'interno di una landing page per farlo più carino, chiamiamolo così. Quindi vado nelle mie landing page, creo la pagina, adesso vi faccio vedere, per esempio, creo una pagina, inserisco qua il mio logo, scrivo bellissima Fidelity Card per te, eccetera, eccetera, aggiungo la riga form raccolto contatti, seleziono il form, vedete che il form è la Fidelity, e ho creato la mia landing page, pubblico la mia pagina, vedete che è, l'ho chiamata GGH, va bene, vado sugli SMS e crea la Fidelity Card, inserisci landing GGH, questo qui, il cliente riceve il link, clicca e si iscrive alla Fidelity. Quindi fatemi sapere se ho risposto, so che sono andata un po' veloce, però quindi io ho la possibilità di condividere il link del form per iscriversi alla Fidelity Card dove voglio. Questo mi permette di condividerlo con QR code, via SMS, via email, nel sito web, nella mia vetrina, esponendo il QR code, in cassa, quindi per far iscrivere i nostri clienti ci sono tanti metodi, oppure posso fare anche una campagna Facebook Ads, posso inserirlo come button nella mia pagina Facebook, nella bio di Instagram, quando faccio le stories di Instagram sapete che adesso posso inserire il link nelle stories e quindi quando parlate del vostro negozio ricordate sempre che c'è il programma Fidelità, quindi tipo una story, ciao a tutti, benvenuti, oggi che ne so, sto facendo a caso, la story in cui parlate dei vostri prodotti e poi alla fine dite ma comunque, sapete che c'è anche la possibilità di iscriversi a Fidelity Card del negozio e cliccate per riceverla subito e quindi vedete che è davvero molto semplice, usiamole tutte. Ci sono dei regolamenti per i premi, allora non c'è una regola, nel senso che ognuno veramente fa quello che decide di fare ecco. Dipende chiaramente da qual è il valore dello scontrino medio, quindi anche in questo caso decidete quanto dare, mi viene in mente un bar potrebbe decidere di dare in omaggio dei caffè, un negozio che ha uno scontrino medio più alto può dare dei premi più importanti. Cesare mi dice la tua tessera, no a livello legale non ci sono delle diciamo delle indicazioni, semplicemente bisogna indicare però poi il regolamento come vi ho fatto vedere nel GDPR del negozio, quindi è importante poi inserire nella parte scusatemi, torno di qua, nella parte dell'informazione GDPR tutto quello che abbiamo quindi appunto il testo con ok, il regolamento fidelità. Allora, Giorgio ci chiede, ci dice, bisogna versare l'IVA dei premi. Ok, allora io questa cosa qua legale non la so, sinceramente, vi dico la verità e quindi niente, probabilmente vi consiglio ecco, quando create un programma a fedeltà di magari fare due parole con la vostra commercialista, con il vostro commercialista in modo da se ci sono delle cose legali anche relative al vostro particolare tipo di business, potete chiarirle subito. Giorgio dice, si compila un registro bene o mangi e poi si versa l'IVA. Ok, perfetto, benissimo, non lo sapevo, buono sapersi e niente, quindi poi ecco, questa è la risposta. Allora, torno un attimo a voi. Allora, è possibile fare la tessera digitale a step, ad esempio, come quella che ci hai fatto vedere per le tessere di plastica, ad esempio, a 10 punti, ricevi un caffè a omaggio. Esatto, esattamente, cioè, cosa dobbiamo fare? Allora, Fidelity Card, andiamo, io adesso ho configurato un premio, andiamo sull'esempio che hai fatto tu del caffè. Io ho il premio, scusatemi, andiamo a vedere i premi attuali. Allora, vedete che io ho messo un premio a 100 punti, poi metto un premio a 500 punti, sto facendo veramente veloce perché vi faccio vedere, un premio a 500 punti con, se voglio, anche relativo messaggio automatico e poi un premio a 1000 punti. Quindi vedete che posso, step by step, posso vedere quante persone hanno utilizzato quel premio, perché? Perché quando mi viene il cliente in negozio, quindi torniamo nel mio esempio che così non si mostrano i vostri numeri, vedete che io ho 110 punti e quindi in realtà ho raggiunto i punti necessari per riscuotere lo smart omaggio. Bene, Marta viene in negozio e vi dico guarda che avresti anche già lo smart omaggio, vuoi utilizzarlo subito o vuoi aspettare per raggiungere poi i 500 punti, quindi il massaggio, ma si guarda lo voglio usare subito, dammelo. Bene, segna come utilizzato, vedete che si scavano i punti. Allo stesso tempo io ho la possibilità di sapere e di vedere che quel cliente ha utilizzato il premio. Non solo, nella parte poi generale troverò le statistiche, quindi ad oggi ho 19 tessere attive e ho fatturato, vedete che infatti io avevo inserito l'importo nel tessere a Marta, i 100 euro. Quindi qui vedrete il fatturato totale, i premi che utilizzati, quindi che ho segnato i clienti, i punti generali che ho caricato, posso creare dei filtri e posso fare tante cose interessanti. Prima di diciamo chiudere vi voglio mostrare la parte, cioè quando noi abbiamo creato il nostro programma fedeltà e siamo entrati un po' nel meccanismo, quindi abbiamo creato il forum per raccogliere i contatti, il regolamento fidelity, sto iniziando a raccogliere i contatti, ogni persona che entra nel negozio gli propongo la fidelity card. Online quindi io mando il link a chi è già cliente che si può scrivere la fidelity e inizio a gli utenti iniziano a venire nel mio negozio, ricevono gli sms che gli mancano tot punti per ricevere il premio, quindi vengono stimolati a tornare, vedete che non si dimenticheranno tra virgolette di noi perché continuiamo a rimanerli in testa. a questo punto quando ho diciamo creato questo sistema posso fare, vi do due escamotage chiamiamole pro. La prima è quella di creare delle liste filtrate in base ai diciamo alle fasce di spesa. Mi viene in mente adesso si è concluso l'anno quindi mettiamo caso che avete iniziato adesso a creare la vostra fidelity card a dicembre tirate un po' le somme e dite guarda io voglio dividere i clienti tra chi mi ha speso fino ai 500 euro chi mi ha speso dai 500 ai 5000 euro chi mi ha speso più di 5000 euro io sto veramente dicendo cifre a caso quindi faccio filtro fidelity clienti fino a non ricordo neanche cosa avevo detto mettiamo 100 euro ok vedete che io posso fare il filtro per a speso da sempre in questo caso va bene comunque da metto l'intervallo di date e vedete che posso selezionare 100 quindi io mi creo delle liste filtrate per fascia di spesa e poi posso decidere di mandare delle comunicazioni dedicate in base a quanto ha speso il cliente in un determinato arco di tempo questo è davvero molto interessante perché ci permette di fare quello di cui vi parlavo che ha fatto quel case study del negozio abbigliamento che io ora non riesco a raccontarvi per questione di tempo però ve lo mostro e vi do il link che è esattamente questo qui vi metto il link in chat è proprio il case study di questo negozio che suddividendo i clienti per fasce di spesa è veramente riuscito ad aumentare il fatturato del negozio quindi questo è molto interessante altri spunti che vi posso dare sulle fidelity card quindi anche per approfondire un po' il tema vedete che se voi cliccate nella parte risorse del sito fidelity card trovate un po' tutti gli articoli legati al tema operativamente quando vi mettete a fare le cose se volete avere un chiarimento ulteriore rispetto a quello che vi ho mostrato oggi potete guardare questo video che è dedicato alla creazione del premio digitale quindi approfondire il tema trovate anche come aggiungere la fidelity al mobile wallet come configurare la fidelity premi automazioni quindi sono tutti i tutorial che vi potete guardare con calma step by step e fare i passi in ogni caso comunque poi vi manderò anche la registrazione del webinar di oggi quindi avrete tutto in mano un'altra cosa che vi consiglio di fare è quella poi di guardare magari anche qualche caso per esempio questa è una erboristeria che utilizza la fidelity card sms hosting questo è un diciamo uno store di foto stampa digitale e anche qui utilizza la fidelity card quindi potete vedere un po' come è strutturato il programma altra cosa importante che vi dico è che se vuoi nel foro raccolta contatti come ho fatto fare prima voi inserite anche e richiedete la data di nascita potete poi automatizzare e inviare un sms di compleanno con un premio da riscuotere per i clienti fedeli Armando ci chiede come fa il sistema fidelity a sapere quanto spende il cliente devo inserirlo io manualmente quindi come vi ho mostrato prima quando Marta viene in negozio io ok quanto hai speso 50 euro bene aggiungi punti quindi è manuale chiaramente se poi lo integrate tramite API e adesso vi do anche il link all'API comunque lo integrate tramite API al vostro store online oppure al vostro punto cassa la cosa sarà automatica API sms quindi semplicemente vedete che queste sono scusatemi questo è il link vi volevo dare il link diretto all'API eccole qua ve le metto per chi poi diciamo ve le metto in chat per chi di voi si intende di sviluppo e quindi diciamo che sa mettere mano ecco alle all'API sapete che c'è anche questa possibilità infatti qua vedete Fidelity Card c'è tutta la parte di integrazione tramite API l'ultima domanda Daniele quando entra il cliente nel negozio posso inserire nome e cognome per vedere i punti accumulati assolutamente sì assolutamente sì cioè voi terrete vedete è semplice cioè voi in negozio o vi tenete un pc aperto oppure potete scaricare nello smartphone l'app sms hosting e quindi consultare i punti del vostro cliente da app o qui arriva il cliente cerco cognome cognome quindi Marta e gli assegno i punti quindi vedete che il cliente può aver portato la tessera quindi averla fisicamente e quindi la possiamo inquadrare con il QR code e quindi con l'app che abbiamo nel sms hosting nello smartphone oppure mi basta scrivere il nome e il cognome quindi è veramente molto semplice io so che è stato un webinar bello fitto so infatti che questo argomento delle fidelity è bello strutturato e ci sono tante cose da vedere e su cui ragionare però io veramente vi consiglio visto che adesso siete belli freschi e pronti di provare gratis sms hosting per 30 giorni e di smanettare quindi vedete che qua c'è vi do anche questo in chat il link alla prova gratis veramente potete provare a iscrivervi e a creare la vostra fidelity card per definire anche questa un'altra domanda che mi fate i diversi premi per fascia di spesa trovo il video certo allora guardate per le risorse quindi per accedere alle risorse io vi consiglio di andare nella sezione guardate qua sms hosting abbiamo risorse e poi c'è la parte risorse formative gratuite se voi filtrate qui per fidelity card vi faccio vedere voi trovate tutte le risorse collegate questa risorsa relativa ai premi automazioni è qui e c'è sia la guida scritta che il video tutorial su youtube quindi voi qua avete il video tutorial che vi potete guardare con calma e seguire passo passo proprio per vedete qua c'è il video per creare appunto la vostra fidelity card bene io direi che siamo giunti alla fine sono scoccate le 15 quindi sapete che io sono sempre puntuale almeno cerco di esserla e grazie Daniele ottimo è sempre gentilissimo grazie mille anzi grazie a voi per aver partecipato live al webinar grazie a voi per aver guardato grazie a voi per aver guardato grazie a voi grazie a voi grazie a voi